Con la premiazione di altri nove ristoratori sale a 20 il numero di strutture della provincia di Sernia che hanno ricevuto la certificazione di qualità ospitalità italiana. Un marchio questo che se da un lato premia le strutture che hanno scelto la qualità come obiettivo da raggiungere, dall'altro offre ai clienti una valutazione obiettiva del livello del servizio offerto. Una garanzia sia per i turisti sia per le strutture ricettive. Il premio viene assegnato dall'ISNART, Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. Questo marchio è utile perché questo marchio soprattutto per quanto riguarda l'estero viene visto come sistema di garanzia di ciò che viene offerto dalle nostre strutture ricettive e ristorative. Il marchio racchiude in sé il concetto dell'ospitalità italiana, quindi quella innata caratteristica che è portata nel sangue dai nostri operatori turistici che hanno fatto sì che il nostro sistema turistico sia sempre andato avanti e non si sia mai fermato. Grazie anche all'impegno della Camera di Commercio, da sempre impegnata nel sostenere le imprese del settore, il turismo comincia a far registrare qualche segnale di crescita. Una terra che ha ancora molte potenzialità e può sicuramente migliorare, però una cosa è certa, da quando abbiamo iniziato a lavorare con questa terra per la promozione del turismo, ogni anno si verifica un percorso di crescita. Quindi ovviamente non parliamo di quelle crescite mastodontiche che il 30-50%, no, è un percorso lento ma perché è un percorso di qualità, quindi noi ricerchiamo la qualità e qui ogni anno troviamo qualcosa di meglio.